Manca poco al suono della campanella. Nonostante rischi sui possibili focolai e le incertezze degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell'Istruzione non sono arrivati contro ordini e il 14 settembre gli istituti riapriranno i cancelli in tutta Italia. Il ritorno a scuola sarà consentito sempre a condizione del rispetto delle misure di protezione anticontaggio, tra le quali il distanziamento. Per questo sono partiti in provincia di Frosinone i lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, lavori che consistono ad esempio nella demolizione di tramezze per la realizzazione di aule più grandi, interventi sugli immobili comunali e provinciali. Si corre per terminare i lavori in tempo per la riapertura degli edifici scolastici. L'ente provincia sta effettuando i lavori al liceo scientifico di Frosinone con l'abbattimento di tramezzi, così come nella sede del liceo classico Turriziani, sempre nel capoluogo Ciociaro, dove si sta ristrutturando anche l'ex alloggio del custode, proprio per fare spazio. Interventi anche all'interno dell'istituto di istruzione superiore di Ponte Corvo e all'istituto tecnico commerciale per geometri, medaglia d'oro, città di Cassino. Unico nodo da sciogliere sarà quello dei trasporti, per garantire trasferimenti in sicurezza degli studenti da e per la scuola. I mezzi non potranno di certo viaggiare a pieno carico. C'è la necessità quindi di aumentare il numero delle corse, mentre le scuole dovrebbero provvedere a degli orari sfalsati. Usiamo il condizionale perché ci rendiamo conto che a due settimane dalla ripresa delle scuole la confusione sul come gestire la ripartenza è ancora tanta.